Un giovane di 28 anni questa mattina, a tocco da Casauria, al culmine di una lite con il padre, ha minacciato di far esplodere la casa a prendere il tubo del gas e ha tenuto in ostaggio il genitore con un coltello. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri con il comandante Marco Riscaldati e i vigili del fuoco, gli psicologi della ASL e le sorelle dell'uomo, che hanno cercato di convincere il fratello a consegnarsi le forze dell'ordine. Grazie all'intervento di un nucleo speciale, dopo 5 ore si è conclusa la vicenda senza gravi conseguenze. Il padre, leggermente ferito e con il volto tumefatto, è stato caricato dall'ambulanza e trasportato all'ospedale di Pescara, mentre il 28enne Luca Settembrini è stato preso da una pattuglia dei carabinieri in Borghese e portato in caserma. Il comandante provinciale dell'arma di Pescara, Marco Riscaldati, ha spiegato che, grazie al lavoro del nostro negoziatore, un maresciallo in servizio al comando provinciale di Pescara, che ha fatto il lavoro egregio, siamo riusciti, al termine di un dialogo che si è protratto per molte ore, a convincere il ragazzo ad esistere e, una volta accaduto questo, siamo riusciti a entrare con calma in casa e a convincere il ragazzo ad uscire senza dover fare nessun blitz. Il papà è per accertamenti in ospedale, ma le condizioni sono buone. Ora stiamo verificando l'accaduto.